Spettacoli, webstar, street food, sport e cinema sotto le stelle. Saranno estate, tutta da vivere al Parco Matusa di Frosinone. È stato presentato all'interno della Sala Consiliare del Comune di Frosinone l'Arena Matusa Festival, il programma di eventi promossi da iniziative editoriali con la collaborazione di Cioceria Editoriale Oggi, che si svolgerà all'interno del Parco Matusa da giugno a settembre. Abbiamo presentato questo progetto che è stato approvato dalla Giunta Comunale e quindi siamo già a lavoro per organizzare i prossimi mesi di attività. In particolare questo Arena Matusa Festival, che sono in realtà sette manifestazioni strutturate in un calendario ufficiale e poi tutta una serie di manifestazioni che si aggiungeranno da qui fino alla fine dell'estate. Si aprirà il 14 giugno con il Parco delle Meraviglie e con i Follower Days. Si proseguirà con tutta una serie di attività. Partiremo con il Pizza Village in programma a fine giugno. Poi ci sarà una grande festa della birra, tutta birra. Dopodiché ci saranno due manifestazioni che abbiamo ideato. La prima è il Matusa Sport Village in programma a metà settembre, dedicato allo sport. Si chiuderà con il Motor Passion, una manifestazione che, come dice il titolo, è dedicata al mondo dei motori. Il Parco Matusa sarà il centro della musica, degli spettacoli, della gastronomia, ma anche dello sport e dei motori. Un luogo dove sarà possibile incontrare web star come Favij e Mattebise e poi assaporare le eccellenze gastronomiche con il Ciociaria Street Food. Semplicemente un posto dove incontrarsi e divertirsi al centro della città. Non è soltanto un parco, ma diviene quella grande piazza che mancava da oltre un secolo in città. Trasformare quello che era un vecchio paesone in una città significa soprattutto riportare la gente a incontrarsi. Era venuta meno forse l'anima stessa della città. Quindi grazie a questa piazza verde, ora c'è la possibilità non solo di aggregare quelle che sono differenti fasce di età, differenti fasce sociali e anche differenti origini, ma c'è la possibilità soprattutto di promuovere la cultura, lo sport e tutto quello che passa per la socializzazione all'interno del centro urbano della città di Frosilonecchi.